beh a fioia benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale questo video è un po' diverso dal solito infatti non siamo in moto oggi ma faccio questo video qua solo per annunciarvi quella che potrebbe essere una novità più che una novità è diciamo una prova che ho deciso di fare che cosa è questa novità questa novità non è altro che l'apertura di un secondo canale su youtube perché ho deciso di aprire il secondo canale su youtube ma la faccio in breve molto stretta diciamo molto cerco di essere più rapido possibile a gennaio 2020 e ho iniziato a praticare una disciplina se possiamo chiamarla tra virgolette una disciplina sportiva che non avevo mai provato questa disciplina mi ha come dire preso molto tanto che mi sono attrezzato e tutto questo primo di tutto il casino del covid e tutto quanto di cosa stiamo parlando ovviamente nel titolo avete letto bene e mi sono procurato un fucile ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti